sapete cosa Bert Hellinger alla fine della sua carriera addirittura aveva creato quelle che si chiamano le ricostellazioni spirituali dove le persone non parlavano tutto succedeva come doveva succedere e sai io assolutamente non ho l'esperienza che ha Bert Hellinger ma ho avuto delle esperienze lavorando con clienti dove ed è veramente quando ti accoggi con intelligenza superiore ho avuto esperienze dove io iniziavo il processo e ancora prima che io facessi la domanda perché tra virgolette le ricostellazioni sono al servizio della riconciliazione riportiamo equilibrio nel sistema e riconciliamo i rapporti ma ancora prima che io volessi convalidare l'ipotesi che avevo intuito la persona aveva già elaborato le informazioni mi stava già dicendo di quello che stava succedendo internamente e il processo succedeva automaticamente e succede spesso questo questo per tornare a dire che c'è un qualcosa in campo ma c'è sempre ma con le costellazioni proprio creiamo un setting dove questo è palpabile un qualcosa di intelligente che vuole ripristinare ordine nel sistema e quell'energia lì io la posso solo definire come l'amore l'amore puro e mi piace tra l'altro lavorare con le costellazioni perché utilizziamo la forza più potente che c'è l'amore e io non ho mai visto nessun'altra modalità terapeutica che usi questa energia così tanto non ho mai visto nessun'altra modalità terapeutica che usi questa situazione